Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, ad essere ripresi, ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo stati premiati perché credo che poi nel contesto delle occasioni create e di tutte le situazioni da gol che abbiamo comunque sia costruito siamo stati superiore alla lupa Roma. Federico purtroppo è una situazione che non riusciamo a risolvere quindi ogni qualvolta lui cerca di accelerare nel senso che cerca di mettersi nelle condizioni per poter effettuare una partita si riscontra un affaticamento che non riusciamo in questo momento a togliere. Petrella ha subito un forte trauma contusivo al braccio e all'istante sembrava una situazione grave poi ha fatto un esame radiologico e non ha nessuna frattura quindi credo che anche lui sia disponibile. Ci aspetta una partita difficile ma non perché dobbiamo comunque sia noi creare delle scuse o accampare comunque sia mettere le mani avanti no perché ripeto il manto va al di là che fuori casa ha fatto meglio in casa. Io l'ho vista giocare anche dal vivo a San Benedetto la terza partita era l'unica partita che hanno vinto e fecero molto bene perché ci sono giocatori secondo me validi con un curriculum importante e dunque noi dobbiamo fare una partita determinata. dobbiamo fare una partita dove dobbiamo anche ritornare a conquistare un pochino i nostri tifosi in casa perché l'ultima prestazione riferimento alla partita ultima di campionato non è stata ai loro occhi una cosa piacevole.